Asfalto dissestato e sconnesso e addirittura buche sono alcune delle criticità della villa comunale di Isernia. Tra le segnalazioni via social prospettato anche il rischio per l'incolumità delle persone, ahimè sempre di meno, che fruiscono di quello spazio. Lungo uno dei viali un tombino di cemento spaccato costituisce una particolare fonte di rischio. Mettervi il piede in fallo da parte di bambini e anziani, i principali frequentatori del luogo pubblico, sarebbe infatti decisamente pericoloso. E ancora lo spazio verde poco curato e l'area giochi malmessa contribuiscono a dare un'immagine di messa della villa al limite del degrado o addirittura oltre lamentano alcuni. Ci sono dei buchi, non c'è un ordine preciso per i bambini, dobbiamo stare sempre attenti che i bambini inciampano e cadono. C'è un po' di problemi, i cani che vengono sporcono e più di uno non pulisce, ci sono dei posti degradati, l'erba che si secca, le carrozzine non possono camminare, le mamme si sforzano a spingere perché trovano dei fossi. Sì, questo è vero, per portare i bambini è veramente diventata una cosa impossibile. Voi guardate l'asfalto, i prati, poi pure giochi, questo è un degrado totale. Mi penso che non va bene niente, che sta tutto rotto qua. Le marciapiedi, le persone anziane ingiampano perché ballano le marciapiedi, sono tutte aperte, è una cosa assurda, più sempre l'anziano, io ho soccorso una persona anziana che va ingiampata, poverino. Eppure la villa a fine 2019 era stata sottoposta ad un parziale restyling che avrebbe dovuto conferire allo spazio nuova attrattività e comfort per gli utenti. Su questo fronte, a guardare le immagini, c'è ancora da lavorare. Intanto, molti degli abituali fruitori dell'area stanno convergendo al parco stazione recentemente inaugurato. Da parte degli amministratori sarebbe però il caso di dedicare altrettanta attenzione e cura alla storica villa, polmone verde e punto di riferimento nel cuore della città.